Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate la Sacra Scrittura che è la parola di Dio afferma che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Siccome è scritto non v'è alcun giusto neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non v'è alcuno che pratichi la bontà, non neppure uno, la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione ed amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie rovine e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è timore di Dio dinnanzi agli occhi loro. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione di fatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione, mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante, colui che ha fede in Gesù. Dunque, Dio è giusto e giustifica colui che ha fede in Gesù. La giustificazione dunque si ottiene, l'uomo la ottiene, soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, non per opere. Ripeto, non per opere. Questo perché il giusto vivrà per la sua fede, per cui nel momento in cui l'uomo crede nel Signore Gesù, egli viene giustificato, viene reso giusto, in quanto il Dio gli imputa la giustizia senza opere. Praticamente il Signore Dio gli mette la fede in conto di giustizia. Quindi vi sto parlando della giustizia che viene da Dio basata sulla fede, che è rivelata nell'Evangelo. Ecco perché ora vi annunzio l'Evangelo e vi dico in che cosa consiste l'Evangelo, cioè la buona novella. Perché? Perché questa giustizia è rivelata nell'Evangelo. L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, nel quale credendo l'uomo viene giustificato. Dice bene l'Apostolo Paolo, in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Tu mi dirai, com'è possibile? Ma è possibile che sia così semplice? Questo è quello che dice la parola di Dio, quindi questa è la verità. E io che vi parlo, ricordo bene quando ho creduto nel Signore Gesù e la mia fede mi fu messa in conto di giustizia. Ormai sono passati molti anni, però ricordo bene che quando appunto il Signore mi salvò, mi sentì giustificato. E quindi, non è in virtù d'opere, ma è per grazie. Ripeto, è per grazie a voi, non potete mettervi a pensare che vi potete guadagnare o meritare la giustificazione per opere. No. Se lo penserete o se lo pensate, vi illudete. Vi illudete. Vi illudete grandemente. Perché? Perché la scrittura lo dice chiaramente. Per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto. Già che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. La legge che Dio ha dato, dove sono prescritte tante opere buone, non è in grado di giustificare l'uomo. Perché Dio ha stabilito che l'uomo sia giustificato per fede. Infatti, disse tramite uno dei suoi profeti antichi, il giusto vivrà per la sua fede. Quindi, ecco quello che devi fare. Ravvederti e credere nell'Evangelo per essere così giustificato per grazia, mediante la fede. E non solo giustificato, ma anche liberato dai tuoi peccati, affrancato dal peccato. E poi perdonato, perché chi crede in Gesù, chi ha fede in Gesù viene perdonato, ottiene la remissione dei peccati perché di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede vada bene, vada bene a quello che sta scritto, chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Ecco dunque come puoi ottenere anche la remissione dei peccati, credendo nel Signore Gesù. E poi ricordati, credendo nell'Evangelo si ottiene la vita eterna perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù e chi crede ha vita eterna. Quanti ti avranno detto che la vita eterna si deve guadagnare, la si deve meritare. No, non te la puoi né guadagnare né meritare, la puoi solamente ottenere per grazia perché è il dono di Dio come credendo nel Signore Gesù. Vedi dunque credendo nel Signore Gesù quante cose meravigliose che l'uomo ottiene? Quindi ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio che nella pienezza dei tempi è stato mandato da Dio Padre nel mondo per essere il Salvatore del mondo. la salvezza è in Cristo Gesù fuori di Lui non c'è salvezza perché non c'è altro nome sotto il cielo che si è stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati ricordano non c'è un altro nome mediante il quale o credendo nel quale tu possa essere salvato il solo nome invocando il quale tu puoi essere salvato è il nome di Gesù Cristo il Figlio di Dio quindi ravvediti e credi nel Signore Gesù ricordati Dio è giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù che ha orecchi da udire oda che ha orecchi da udire orecchi da udire Grazie a tutti.